Benvenuto su Febbre da Gossip. Non dimenticarti di registrarti e attivare le notifiche per essere sempre aggiornato. Un semplice like e un commento sono preziosi per il nostro canale, grazie per il tuo sostegno. Recentemente, Romina Power ha fatto un annuncio che cambierà la nostra percezione di Albano. Attraverso il suo innegabile talento, Albano è riuscito a conquistare milioni di cuori lungo il suo percorso nella musica italiana. Tuttavia, dietro l'immagine pubblica si nascondeva un segreto che ha affrontato con straordinaria determinazione. Oggi, c'è una grande curiosità su dove si trovi Albano. Voci e speculazioni riguardanti la sua salute si stanno diffondendo rapidamente. In un'intervista recente, Romina ha scelto di condividere con il mondo la verità sulla malattia di Albano, che per lungo tempo è rimasta nascosta. Questa malattia lo ha colpito all'improvviso, mettendolo di fronte a una sfida estremamente complessa, diversa da tutto ciò che aveva affrontato in passato. Oggi, la sua routine è centrata su trattamenti e terapie che sono diventati una parte essenziale della sua vita. Nonostante tutto, Albano dimostra una straordinaria forza interiore. Questa battaglia silenziosa che sta combattendo sarà certamente un'ispirazione per molte persone che si trovano in situazioni simili, come ad esempio chi affronta l'anemia. Albano desidera sensibilizzare il pubblico sulla sua malattia, portando un messaggio di speranza e incoraggiamento. Auguriamo sinceramente ad Albano di rimanere in salute e di continuare a deliziarci con la sua meravigliosa voce. Grazie per averci seguito, e non perderti il prossimo video. A presto!